Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di un'altra macchina da presa. Nello specifico parliamo di quella che può essere considerata una videocamera e non una macchina fotografica. Nel settore della produzione video è vero che negli ultimi 10 anni si sono fatti prepotenti i corpi ad utilizzo fotografico spostati all'utilizzo video. Mi viene ad esempio di immaginare i corpi fotografici Sony, Canon che oggi spopolano tantissimo e ci sono dei corpi fotografici dedicati a chi realizza video. Vediamo ad esempio Sony A7S III che per quanto è un corpo fotografico è ben studiata per tutto quello che è il reparto video ed anzi probabilmente ha più funzioni per il mondo video piuttosto che quello fotografico. E come ci sono i corpi fotografici dedicati alla fotografia ci sono anche i corpi video che sono detti videocamere sostanzialmente o macchine da presa con dei form factor un po' particolari. Ora non vi parlerò di un corpo macchina nuovo ma vi parlerò di un corpo macchina che ho avuto la possibilità di provare qualche mese fa e mi ha letteralmente lasciato stupito. Ho ancora qualche dubbio ma ne parleremo fra poco. Sto parlando del brand Zicam. Zicam è una società cinese che produce queste macchine da presa molto ma molto interessanti. Uscite i primi modelli della Zicam prima di concorrenti come Red Comodo o Blackmagic Cinema Pocket 6k se non vado errato. Questi corpi macchina sono davvero molto interessanti oltre al fatto che ad oggi ci sono una line up molto interessante ma ci danno delle funzionalità e delle peculiarità molto interessanti. Parliamo subito del fatto che è un corpo macchina davvero molto compatto perché è praticamente un cubotto e questo form factor che non ritroviamo in tutti i corpi macchina fotografici ma cominciamo a ritrovarli nei corpi dedicati al video soprattutto nelle videocamere dedicati al cinema. Questo form factor molto particolare perché ci consente di avere un corpo che è sostanzialmente un cubo. Un cubo al quale possiamo grazie a tutta una serie di viti che troviamo sul suo corpo poter già agganciare degli accessori e questo già ci fa pensare che probabilmente abbiamo bisogno di aggiungere accessori. Questo perché nei corpi video è naturale dover aggiungere degli accessori per poterlo utilizzare come possono essere solo delle maniglie, possa essere ad esempio l'attacco di un rig, di uno shoulder rig da mettere sulla spalla, attacco di un microfono, attacco di un monitor, tutte quelle cose che oggi noi facciamo con le gabbie o con i cage. Se portate probabilmente Zicam insieme a Red, ma Red la terrei un pochino fuori dal discorso perché è un livello molto più elevato anche se si combattono parecchio con un modello specifico, hanno introdotto questo, forse Zicam è stata la prima di introdurre il concetto di avere tutto sul corpo macchina quindi non c'è bisogno di avere un cage esterno ma si può tranquillamente avere un corpo molto solido a cui poter agganciare tutti i nostri accessori. Andiamo a fare un attimo un escursus di quello che è il corpo macchina che ho provato che è una Zicam E2 M4 se non vado errato, purtroppo è un problema con tutte le, con tutti i modelli, infatti ho aperto qui davanti a me il sito, li vorrei elencare, prodotti, allora troviamo la Zicam E2 S6, Zicam E2 F6 insieme alla Zicam E2 F8 sono le top di gamma, troviamo la Zicam E2, Zicam E2 M4 e poi abbiamo delle sorelline minori, Zicam E2 C, G ed E1. Ora faccio un veloce scursus, naturalmente trovate tutto sul sito di Zicam e il modello è Zicam E2 e poi ci sono diverse varianti, io ho provato la M4 che sta per micro 4 terzi, poi esiste la E2 che è un sensore Super 35 con un attacco bionetta Canon, poi troviamo la E2 S6 che sta per Super 35 quindi APS-C e registra fino a 6K, la F6 che è una full frame, attacco Canon che registra fino a 6K e poi troviamo la E2 F8 che è una full frame e registra fino ad 8K. Ora come avete potuto notare abbiamo tantissima possibilità di scelta. Allora vi dico cosa può fare questa macchina che ho avuto tempo di provare davvero poco e poi in condizioni un pochino complesse, come potete immaginare. Sono corpi macchine che permettono di girare internamente in 12 bit in ProRes RAW, questo è tanto da dire perché lo registravo internamente, in 4K fino a 160 fotogrammi al secondo con 10 bit di colore, di profondità, che non è assolutamente poco. Naturalmente se ragioniamo in RAW dobbiamo parlare con frame rate molto più bassi, mentre per avere frame rate alti dobbiamo abbassare i bit rate, quindi possiamo registrare in ProRes fino a 10 bit, fino a 160 fotogrammi al secondo, andando a ridurre un pochino, aggiungendo un po' di crop al sensore. Il crop parliamo che è un 2.4 a 1, quindi un 3840x1620, una cosa del genere, quindi anche un bel aspetto cinematografico per avere il 160 fotogrammi in camera. Naturalmente vi sto parlando di tutti i dati relativi a quello che ho provato io, che è un i2 M4, quindi un sensore micro 4 terzi con attacco micro 4 terzi, insomma. Un po' di cose molto interessanti, il fatto che sia un corpo molto piccolo, il fatto che possiamo controllarla con una porta gigabit ethernet, ma c'è bisogno di un software proprietario col portatile per poterla controllare. Abbiamo il RAW proprietario che è un Z RAW, molto molto ben fatto, l'ho provato, è un ottimo codec. Andiamo dai 13-15 stop di gamma dinamica, se è abilitato il wide dynamic range arriviamo fino a 16, ma sono tutte impostazioni che andrebbero provate in base agli utilizzi. Registriamo i 10 bit in H.265, mentre registriamo ad 8 bit in H.264 per versioni compresse, mentre se ragioniamo con i ProRes abbiamo naturalmente altre tipologie di codifiche. ZK-M2, molto ma molto interessante, ha dei piccoli problemi proprio gestionali, essendo proprio un corpo camera dedicato, non proprio running go, ma un po' più dedicato al set, ha bisogno dei suoi tempi per essere messa in opera. Ha uno schermino sul corpo macchina piuttosto piccolo, devo essere sincero, che è scomodo nella sua posizione. Unica cosa molto positiva è l'app che ci permette di comandare a distanza la ZK-M2 in maniera molto ma molto comoda, senza dover toccare i tasti che comunque sono anche loro posizionati in maniera molto ma molto scomoda. L'app ci permette anche di ottenere un segnale completamente live, quindi non avremo bisogno in teoria di un esquermo esterno, ma se vogliamo lavorare e comunque fare un'inquadratura piuttosto decente, abbiamo bisogno comunque di avere un riferimento un pochino più grande. Con l'app possiamo andare a registrare, vedere tutti quelli che sono i vari parametri, possiamo andare a cambiare anche i parametri dell'esposizione in maniera molto ma molto più comoda rispetto ad utilizzare quelli che sono i pulsanti posizionati sul corpo macchina perché sono un pochino pochino scomodi. Questo corpo macchina ha un difetto, o meglio un difetto, una mancanza, non ha un monitor. Abbiamo un piccolo monitor, un piccolo display, molto piccolo penso un pollice sul corpo macchina dal quale possiamo navigare nel menu, andare nelle varie impostazioni e possiamo anche vedere il ritorno video, ma questo non ci permette assolutamente di poter mettere a fuoco nulla, anche perché non ha un sistema di autofocus continuo, ha un autofocus point and shoot, quindi un singolo autofocus che non è neanche tanto performante, o meglio l'ho provato, non mi è piaciuto, ho preferito comunque lavorare a mano col fuoco perché comunque una volta messo a fuoco la prima volta comunque avrei dovuto muovere il fuoco manualmente. Quindi a questa mancanza al quale necessariamente dobbiamo aggiungere un monitor esterno. Perché voglio fare questa premessa? Perché parliamo del costo. Ad oggi, vado sul sito ufficiale, l'i2 M4 viene proposta al prezzo di 1499 dollari, andiamolo a tradurre in italiano e con un po' di IVA penso che arriviamo intorno ai 2200 euro di prezzo. Di sicuro ci saranno delle offerte dei vari rivenditori, se riesco a beccarne qualcuna ve la linko qui sotto in descrizione, ed è un costo che probabilmente, almeno per questo modello nello specifico che io ho avuto modo di provare perché avrei voluto provare una super a 6K, una full frame a 6K, probabilmente siamo un po' oltre perché abbiamo poi concorrenti come Blackmagic che fa ancora la 4K, 1.4 terzi, che non ci arriva a 160 fotogrammi al secondo ma ci arriva a 60, ci sono casi e casi in cui avremo necessità di 160 fotogrammi al secondo, diciamo che probabilmente punterei dall'altro lato che mi costa la metà? Probabilmente. Ma da quest'altro lato invece questo corpo macchina è molto più comodo per essere accessoriato, quindi troviamo una facilità d'uso nell'accessorizzazione, nell'aggiunta di tutte quelle che possono essere il corredo che a noi interessa per poter lavorare, proprio per il fatto che ha tutti questi buchini. Un'altra cosa molto interessante è che ragiona con le batterie Sony NP, ora non ne ho qui sotto mano, sono le classiche batterie Sony, quelle che anche montiamo dietro i fari a volte, che è molto comodo perché costano relativamente poco e sono relativamente performanti, quindi possiamo acquistarne più di una per poter lavorare. Vi ripeto, secondo il mio parere io l'ho provata senza cage, senza rig intorno, era piuttosto scomoda. Va un po' adornata di oggetti per essere utilizzabile, ad esempio il minimo sono una maniglia laterale e una maniglia superiore, almeno per poter lavorare al meglio. Come capacità della batteria io ho provato una batteria piccola che normalmente quando ho utilizzato su una telecamera mi durava 20 minuti, qui mi è durata altrettanti 20 minuti, quindi lo scarico, con questa giravo l'ho tenuta sempre accesa, quindi lo scarico è abbastanza coerente. Il menu della camera è molto interessante, un po' macchinoso e c'è una cosa del corpo macchina che non mi fa impazzire, ma vi ripeto vorrei provare gli altri modelli per vedere se è cambiato qualcosa, purtroppo. Il periodo è quello che è. I tasti, i tasti funzione che troviamo sul corpo macchina, perché ne abbiamo se non vado errato, tre sopra e tre di lato, adesso li vado a contare, no abbiamo cinque sopra e cinque di lato, scusatemi, abbiamo quattro tasti funzione personalizzabili, il tasto d'accensione e poi i vari tasti funzione sopra il corpo della macchina sono fatti in gomma, ma una gomma molto morbida e quindi piuttosto fastidiosa da utilizzare, ma almeno questo è il mio parere. Vi starete chiedendo questa macchina da presa, questa videocamera, su un cosa registra? Beh, registra su Cfast 2, abbiamo quindi tantissime informazioni e file molto grandi, è normale che ci sia bisogno comunque di una velocità di scrittura dei file. Insomma, cosa ne penso io? È un corpo macchina molto interessante, naturalmente probabilmente non punterei su una M4, in questo momento punterei su una S6 probabilmente, o una F6. 8, quindi 8K, non lo so perché sono file talmente grossi e ingestibili, occupano tanto spazio, davvero hanno bisogno di tanta maneggevolezza, quindi non so se consigliare di lavorare ad un 8K. Di sicuro una 6, una full frame 6 sarebbe una cosa interessante, anzi voglio andare a vedere con voi il prezzo di una full frame 6 perché va in piena competitività con quella che è la Red Comodo. Red Comodo che invece è una Super 35 che registra a 6K e costa intorno ai 6.000, 7.000 euro più IVA, 6.000 più IVA, una cosa del genere. Infatti la Zcam E2 full frame 6K registra a un costo di 4.000 dollari, quindi andiamo a fare un po' di conti e arriviamo a 5.000 euro circa. Sarebbe molto interessante, certo ci fa un 4K a 120 fotogrammi al secondo e un 6K a 60. Insomma siamo come la Red Comodo soltanto carriamo un sensore full frame, molto più interessante in determinate circostanze. Io per esempio su una macchina da presa il sensore troppo grande non lo apprezzo perché quando si tratta di creare un contenuto video, cinematografico, un corto, non sempre si vuole avere l'effetto bokeh, non c'è sempre bisogno di questo e normalmente il sensore grande aiuta tantissimo il full frame quando si ragiona con poca luce, con meno luce perché abbiamo un'area dove far arrivare meno luce, quindi possiamo ottenere un risultato simile. Quindi un sensore un po' più piccolo, un Super 35 ha bisogno di più luce. È vero questo ma è vero anche che su un set normalmente si ha luce controllata, quindi anche un Super 35, un APS-C per intenderci, può essere gestibile e controllato e possiamo vedere un po' di più dietro, non abbiamo necessariamente questo effetto che vuoi dietro di me che è un bokeh sostanzialmente, ma se stiamo facendo una narrazione di un film probabilmente voglio vedere anche il contesto. Però questo è un discorso molto più ampio, naturalmente poi le scelte se è full frame o Super 35 dipendono da tantissimi fattori e non necessariamente l'avere il bokeh o no. Insomma spero di non aver tralasciato nulla nella mia breve review di questo corpo macchina, mi dispiace non averla provata di più, non averci potuto girare qualche contenuto un po' più complesso, però dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. Io vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link disponibili per poterla acquistare, se ne trovo e trovo qualche offerta ve la linko qui sotto. Fatemi sapere se voi la utilizzate, come vi trovate con questo corpo macchina, se avete riscontrato tutte le cose che vi ho detto, naturalmente. Fatemi sapere se riscontrate gli stessi dubbi o perplessità che ho io, perché so che di tantissimi entusiasti utilizzatori di Zcam, a me soltanto il form factor, un po' massacrato e i pulsanti in gomma, poi probabilmente sarò stato io che l'ho utilizzata troppo poco e non mi ci sono abituato. Insomma, quindi vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti qualche domanda dove posso rispondermi e apriamo anche un confronto proprio sulle Zcam che sono un prodotto davvero molto interessante. Non dimenticatevi di mettere un pollice in su se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando di seguirmi anche su Instagram perché lì cerco di essere presente con stories, racconti e quant'altro e anche se sono un po' meno presente qui su YouTube. Insomma, cos'altro dirvi? Vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.